Un patto civico contro le attività estorsive a danno di esercizi commerciali, imprese e strutture ricettive della città è stato approvato dal Comune e presentato questa mattina dal sindaco Luigi De Magistris con gli assessori Alessandra Clemente, Nino Daniele ed Enrico Panini. L'obiettivo è contrastare con forza il fenomeno del racket e sostenere gli imprenditori che sottoscrivendo il patto si impegnano a non sottostare a estorsioni di ogni tipo. A loro sarà consegnato anche un logo identificativo di adesione all'iniziativa da esibire presso la propria attività. Questa è un'iniziativa culturale molto potente con l'immagine di Edoardo che quindi chi fa un attentato a qualche persona per bene della nostra città fa un attentato alla città, chi attenta alle attività economiche fa un attentato alla città, la città ha scelto cultura, sviluppo economico, lavoro, rinascita. Con questo stiamo vicino alle persone che vengono attaccate per non farle sentire solo. Un patto. Legalità conviene, chi aderisce al patto avrà la solidarietà di tutti, si sceglieranno ancora di più quei luoghi in cui oltre a star bene, ad avere prodotti importanti e di qualità, si è anche una scelta civica contro il racket, l'estorsione e l'usura. Quindi c'è il logo, la gente saprà che se si va in determinati luoghi si va da persone dalla schiena dritta che amano Napoli e che hanno scelto la legalità. Facciamo un passo in avanti oltre a tutto quello che si fa nel comitato provinciale per l'ordine di sicurezza pubblica, quello che si fa in città ogni giorno, quello che lo Stato fa e così ancora di più a testa alta facendono il massimo dobbiamo chiedere al governo, ai governi di turno e allo Stato di fare di più per controllo del territorio, prevenzione e individuazione dei responsabili di attività criminali così gravi. Il patto civico anti-racket del comune sarà seguito da una campagna di informazione e promozione che coinvolgerà anche il mondo della cultura e dell'arte e l'elenco degli aderenti sarà pubblicato sul sito istituzionale.